Verso il dodicesimo del primo tempo cominciano i primi drammatici sintomi di gollassi cardiocircolatori e implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è inferio in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata.